Dopo i campionati europei di tennis tavolo al Palavaian, da aprile in Liguria l'evento sportivo Primavera Paralimpica per atleti disabili, fisici e intellettivo relazionali. E nei prossimi giorni Genova si candiderà, la risposta del Comitato Mondiale il 5 aprile, per l'organizzazione del Global Games, la vera Olimpiade dei disabili. 55 nazioni invitate, 25.000 presenze alberghiere, concorrenza organizzativa di Sudafrica e Messico. Beh, indubbiamente queste manifestazioni hanno un'importanza fondamentale, innanzitutto per far conoscere sempre meglio il grado di agonismo che questi ragazzi ci mettono e soprattutto perché è un momento di selezione anche per le prossime Olimpiade che ci saranno a Londra e per i campionati del mondo che ci sono tutti gli anni. Noi siamo atleti di livello, io sfido chiunque di noi a gareggiare, se non siamo sportivi già di livello agonistico, a gareggiare con qualcuno di questi atleti che comunque fanno due secondi in più il nuoto a Pelfs, non è che stiamo parlando di cose enormi. Oppure sfido chiunque a gareggiare in salto in alto con un atleta che salta su una gamba sola. Questo è il programma, campionati italiani giovanili di nuoto, Sori 30 aprile 1 maggio, campionati italiani di vela J24, Sori 1 maggio, campionati italiani di judo, Genova 15-16 maggio, campionati nuoto in Asfid, la manifestazione sportivamente più importante in quanto europea, a Loano dal 13 al 20 giugno. Nel passato è stata quella con la Friendly, la Vasca Lungongiorno, con il Disabile, con la Syncro Cup e con altre manifestazioni di nuoto.